Buongiorno a tutti, questi sono i nostri bambini. Io voglio prendere solo qualche minutino per spiegarvi cos'è Skids and Families e che cosa facciamo. Come sapete l'area Skids nasce qualche anno fa con la visione, dedizione, amore profondo di Giordana ed è attualmente portato avanti con altrettanto amore, dedizione, nuove idee bellissime da Rosita e Samuele. E davvero una delle idee nuove che abbiamo apportato quest'anno è proprio quella da cui appunto prende il nome Skids and Families di curare maggiormente anche l'aspetto familiare, quindi coinvolgere di più i genitori con attività ricreative, con pranzi insieme, momenti di preghiera insieme. Noi ai bambini raccontiamo la parola di Dio con un linguaggio molto semplice, allora adeguato, attraverso le storie e i personaggi della Bibbia. Trasmettiamo a loro cos'è l'importanza della preghiera come un rapporto speciale tra loro e Dio. e davvero dedichiamo il loro tempo per ascoltarli, capirli, incoraggiarli a vivere una vita con Gesù anche dalla loro tenera età e sapendo che i semini che noi piantiamo oggi sicuramente porteranno il loro frutto perché loro saranno i pastori di un domani, i ministri di un domani. Io adesso concludo così, lascio spazio a loro che sono i protagonisti di questo momento chiedendovi davvero di pregare per noi, insegnanti, che davvero crediamo che sia importante ed essenziale che i nostri cuori siano sempre preparati e siano sempre riempiti dall'amore di Dio, dalla saggezza, dalla pazienza di Dio. Per questo infatti ogni domenica mattina ci incontriamo anche mezz'ora prima del Gospel per pregare, intercedere per noi, per loro ed è un momento speciale non soltanto per noi ma è aperto anche a chi volesse insieme a noi collaborare e pregare per questi bambini, per il nostro servizio. Io davvero con il cuore vi lascio chiedendovi davvero di pregare per noi e se vorrete collaborare con noi, con i bambini, aiutarci in qualsiasi cosa parlate pure con Rosita e Samuele perché ne saremo felicissime. Oh Signor, tutta la natura parla a me e mi raccontare e mi raccontare come puoi fare ogni cosa perché tu non hai limiti Niente è impossibile a Dio, niente è impossibile a Dio Gesù è l'unico dottore che ogni male può guarire Gesù è l'unico dottore che ogni male può guarire Gesù è il migliore amico e sarà sempre accanto a me Niente è impossibile a Dio, niente è impossibile a Dio Se è il buio c'è, spuntare il sole farà Niente, niente, assolutamente Niente, niente, assolutamente Niente, niente, assolutamente Niente, niente, assolutamente Niente, niente è impossibile a Dio Niente, niente è impossibile a Dio Grazie Loro l'hanno cantato questa prima volta, però ci tenevamo che la seconda volta la cantasse tutti insieme a loro, le parole verranno proiettate dietro Dai tutti in piedi facendo gli stessi, dai bambini insegnate a papà e a mamma come si fa, come si deballa, come si fa con la mano, dai Oh signor, tutta la natura parla a me e mi racconta dove puoi fare ogni cosa perché tu non hai limiti Niente è impossibile a Dio, niente è impossibile a Dio, se tu io c'è, scuttare il sole farà Niente, niente, assolutamente, niente, niente, assolutamente, niente è impossibile a Dio Gesù è l'unico dottore che ogni male può guarire Gesù è il mio amico e sarà sempre accanto a me Niente è impossibile a Dio, niente è impossibile a Dio Se tu io c'è, scuttare il sole farà Niente, 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 assolutamente, niente, niente, assolutamente, niente, niente è impossibile a Dio Niente, 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 assolutamente, niente è impossibile a Dio, niente è impossibile a Dio Un applauso ai bambini Bravissimi, bravissimi, salutate mamma e papà, mandateli un bacio Eccoli Adesso andiamo lì a giocare Metti la tua vita sull'altare E inizia a vivere Pienamente Metti la tua vita sull'altare